buonasera cari amiche e cari amici buonasera e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video oltre 1000 oltre 2000 e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 il calcio europeo il calcio mondiale il calcio italiano e quando diciamo calcio intendiamo mercato e intendiamo ovviamente il campo e partiamo proprio dal campo perché questa sera o meglio questa notte alle 4 e 30 contro il reale era le quattro questa volta le 4 e 30 contro il barcellona sarà le 5 il milan affronta la juventus indipendentemente dalla rivalità quello che interessa al milan e credo anche ad allegri è di capire il miglioramento della squadra l'esperimento 433 che va avanti e sta diventando più che un esperimento una una strada futura bisogna capire se è la strada giusta si parte sempre con questo crunic centrale crunic che fa un po da come dico sempre io da metronomo da direttore d'orchestra da colui che detta i tempi e detta il ritmo dell'azione è in grado qualcuno e neanche io lo devo ben verificare ma quello che la persona più importante per quello che riguarda la scelta di crunic la convinzione che crunic sia la figura ideale in quel ruolo è uno solo è stefano pioli e se stefano pioli si fida di crunic in attesa che torni benasser in attesa magari che cambi qualcosa su nel a livello di mercato e allora dobbiamo fidarci visto che lui lo vede tutti i giorni e sta provandolo lo sta adattando in quel ruolo magari meno ispiratore ma più giocatore frangiflutti pronto poi a far ripartire la squadra quindi questa è la situazione oggi della squadra a livello tattico con crunic che rappresenta il sole e le stelle gli girano tutte intorno quali sono quali quali sono le stelle che affronteranno la juventus ci sarà megnan ci sarà calabria e teo ornandez sulle fasce c'è da seguire la prestazione di tomori e ciao ecco una dei temi uno dei temi di questa sera è proprio anche capire la saldezza difensiva saldezza difensiva che secondo me c'era stata contro real madrid però le i tre errori singoli hanno diciano hanno condizionato l'opinione generale perché tre gol sono tre gol partire subito subendo tre gol anche se si tratta di errori singoli beh non va bene non va assolutamente bene quindi vedere tomori a livello di concentrazione perché sul piano dell'aggressività dell'anticipo del senso dell'anticipo di tomori ci fidiamo ecco non devono avere non sono ammissibili per un giocatore del milan in difesa della caratura di tomori alcuna alcuna distrazione alcun alcun passaggio superficiale alcuna chiusura in anticipo quelle devono esserci sempre le chiusure in anticipo non devono esserci mai invece le distrazioni e soprattutto le superficialità questo per quello che riguarda la difesa altro altro giocatore da seguire ormai loftus chic l'abbiamo già ben inquadrato è Reinders in quella posizione lì di mezzala come piace lui e vogliamo capire il rendimento di Reinders la qualità di Reinders l'efficacia di Reinders in questi 4-3-3 là davanti mi sembra che sia tutto abbastanza scontato cioè io non ho dubbi che Pulisic sia bravo a destra come a sinistra in questo caso a sinistra ha giocato le prime due partite contro il Juventus partirà da destra non ho dubbi non ho alcun dubbio che il giocatore sia efficace anche ripartendo dalla fascia di destra quindi questa la formazione e abbiamo parlato fino adesso di campo vediamo quello che è successo a livello di mercato io ho titolato proprio fake perché da quello che trappela dal Milan ci siamo informati direttamente con il Milan non è vero almeno così ci dice il Milan che ci sia stata un'offerta araba per Benasser parlavo proprio con qualcuno oggi il discorso degli arabi è un discorso che fino adesso ha toccato le altre squadre ha toccato le altre le altre gli altri campionati le altre sole le società internazionali al Milan non è stato mai sfiorato ma se si incomincia a parlare anche di Milan chiaro che allora c'è la preoccupazione perché se si presentano con 200 milioni per Leao 200 milioni per Teo Hernandez è chiaro che diventa tutto molto complicato ci sono dei giocatori che non vogliono assolutamente mi sembrano va per proprio l'ultimo voglia assolutamente rifiutare ogni offerta araba l'assi va solo per prendere tanti soldi e per giocare in un campionato che in questo momento viene immesso viene riempito di stelle ma mi interrompo perché voglio capire mi è arrivata una notifica e adesso mi arriviamo a quello che è la notifica quindi mi interrompo un attimo e ho fatto bene a interrompere perché ci sono notizie dicevo notizia fake quella di Benassar che sarebbe diciamo sarebbe come sarebbe l'obiettivo di qualche club arabo ecco mi dicono di no stessa cosa per quello che riguarda Kroenic il Milan mi dice non abbiamo assolutamente nulla adesso parliamo dei due temi partiamo da Musa continuiamo a leggere anche da autorevoli colleghi che scrivono su autorevoli testate che ci siamo che ci siamo il giocatore allora la situazione è questa il Milan ha fatto la sua offerta a 18 milioni di euro non ha poi magari col bonus arriverà magari a 21 non ha nessuna intenzione non ha nessuna intenzione di salire da questa offerta punto mi dicono se gli intermediari se qualcuno riesce a convincere il Valencia oltre che il giocatore che non vede l'ora di venire a Milano due milioni mi sembra l'ingaggio convincono il Valencia che il che il Milan non 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 alza l'offerta e che se loro vogliono vogliono incassare intanto 18 più 3 il Milan è pronto e la chiude subito ma se il Valencia aspetta che sia il Milan a far la prima mossa per adesso il Milan non la fa il Milan non la fa il Milan ha capito che Musa vuol venire via e l'ha finito l'ha finito il Valencia giustamente legittimamente cerca di portare a casa del denaro importante il Milan in questo caso se qualcuno lavora il giocatore gli intermediari gli agenti e vengono incontro ai desideri alle desiderata del Milan tutto bene altrimenti per quello che riguarda Musa il Milan l'ha fatto e ha tutto il tempo per aspettare veniamo a Rebic il titolo è proprio su Rebic volevo titolare vi avevo detto che voglio mettere il titolo su fake Rebic signori il Milan è disposto al prestito il Milan vuole togliersi il problema se il Besiktas dice ok ha il 3 milioni e mezzo di ingaggio per il Milan la situazione è chiara qualcuno potrebbe domandarmi sì ma Rebic cosa ne pensa che cosa ne pensi non lo so ma se il Milan lo presta e Rebic si porta a casa il 3,5 che gli darebbe il Besiktas e non il Milan per il Milan l'operazione è quasi fatta e per il Milan si rendono conto che qui non è più una questione di denaro se il Milan aspetta di trovare una squadra che gli dia i 3,4 milioni ha il problema dentro nella rosa ha il problema per Pioli l'obiettivo del Milan la priorità del Milan è togliersi il problema Rebic che dalla fine della scorsa stagione visti i rapporti con Pioli è diventato un problema in generale per l'ambiente un problema ambientale il Milan vedete che per Orighi non si comporta così perché Orighi non rientra nei piani ma Orighi il suo l'ha sempre fatto anzi si comporta in maniera seria e quindi per quello che riguarda il discorso Rebic si sta lavorando e siamo abbastanza avanti Milan dal Milan trapela se ci dicono ok paghiamo noi l'ingaggio praticamente mettiamola così è un prestito oneroso oneroso ma questo onere non va nelle casse del Milan ma questo onere va nelle 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 tasche di Rebic e l'operazione costa al Besiktas 3 milioni e mezzo lì deve valutare il Besiktas che cosa ne pensi tanto in ogni caso se il giocatore risponderà se no ci sarà il problema il problema perché lui credo che abbia ancora fino al 25 questo è fosse fino al 24 Milan troverebbe il modo di 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 venderlo invece c'è il rischio che torni ma il Milan intanto usa assaggiamente la filosofia che mi diceva sempre richi massara per i prestiti incanti cominciamo a portarlo a casa poi vediamo come va in questo caso incominciamo a prestarlo e ci togliamo il problema e oltretutto ci togliamo l'ingaggio tolto il problema tolto l'ingaggio si può incominciare a ragionare quindi questa la situazione il titolo è Rebic quasi fuori vediamo se poi quasi rientra ancora dentro rifaremo il discorso ma proprio in quella in quando vi ho interrotto perché ho fatto il solito gesto della testa che si muove perché la notifica non mi arriva qua mi arriva qua laterale allora sono subito andato a vedere e mi è arrivata questa voce questa indiscrezione quindi questi sono i due punti importanti chiaro che c'è sempre un po di irritazione ma adesso arriva Furlani Dottami e Moncada sistemano anche questa cosa per quello che riguarda Vallottore è perché il Milan avrebbe già trovato la soluzione col Fulham e porterebbe a casa del denaro lui si è forse già messo d'accordo con Bologna non vuole lasciare l'Italia e lì in questo caso un altro prestito perché il Milan prenderà Musà prenderà magari l'attaccante non credo che prenda il play come ho letto oggi ma vuole incassare se deve incominciare a prestare senza incassare nulla però il mercato ha queste problematiche ha questi ostacoli purtroppo per il Milan se incominciano essere tanti i prestiti sfoltisce la rosa accontenta Pioli magari i giocatori prendono la stessa una buona cifra e non la paga il Milan è già un risparmio però al Milan non interessa risparmiare interesserebbe anche portare a casa qualcosa perché se presta Adli presta Ballot presta Rebic e poi diventa difficile presta magari anche Adli diventa difficile avere l'ultimo tesoretto per andare su Musà perché il Milan comunque 18 milioni gli ha offerti adesso attendiamo se la gente o l'intermediario riesce a convincere il Valencia arriverà anche presto altrimenti sarà sarà il Valencia che a un certo punto cederà perché se no se lo tiene lì un giocatore che non vede l'ora di venire a giocare col suo capitano col sapore di miele di Pulisic se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like il titolone Rebic quasi fuori Grazie. Grazie.